Venafro, quella che vedete, assai poco in verità, è via Maria Pia di Savoia. Le immagini girate tra le 17.30 e le 18 di ieri testimoniano il mancato funzionamento della pubblica illuminazione. Spenti tutti i lampioni di quella trafficata strada che collega il centro città con l'area dell'Arginale Rava. Nonostante sia pomeriggio, l'impressione restituita quella di trovarsi in una zona in aperta campagna, per di più a notte inoltrata. A rischiarare parzialmente la via solo il bagliore dei fari delle automobili in transito. La precaria visibilità della strada, divenuta inevitabilmente fonte di disagi per i residenti del quartiere e soprattutto potenziale pericolo per i passanti. In modo particolare per quei pedoni che, incautamente, non utilizzano il marciapiede procedendo lungo la strada. Non sappiamo se la situazione di ieri sia un fatto episodico e se il servizio di pubblica illuminazione sia stato ripristinato. Sta di fatto che tale disservizio andava segnalato, soprattutto in ragione dei citati rischi per la pubblica incolumità. Tra l'altro, sempre ieri, nella medesima fascia oraria, rilevati analoghi i problemi in altre aree della città. In queste immagini corso Molise e l'accesso alla città da e verso Isernia. Qui, a dire il vero, la situazione era un po' meno critica, un po' meno buia, insomma. E sì, perché ad essere spenti non tutti i lampioni, bensì solo quelli installati su uno dei due lati della strada.